ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al mio nuovo acchiappetto ebbene sì un video veloce di presentazione per il mio nuovo long jean vintage orologio che ho acquistato recentemente qualche giorno fa per inserirlo nella mia collezione di long jean vintage piccolissima collezione umile collezione come si suol dire che poi vi mostrerò velocemente anche dopo no questo qua è un orologino che ho preso per un motivo particolare ora io nella mia collezioncina cerco di diversificare tutti solo tempo non sono però cerco di diversificare in base o all'anno di costruzione o al calibro o perlomeno alla particolarità estetica dell'orologio che siano un po differenti uno dall'altro che poi anche difficile sono molto simili vai in queste fiere in questi mercati trovi un sacco di long jean e molti si assomigliano uno con l'altro no a un certo punto ti viene anche il dubbio perché devo prendere quel quadrante lì che assomiglia o la cassa che assomiglia a cuscino a quella che magari ho già cerchi anche un po di diversificare tra l'altro piccolo spoilerino avevo trovato anche un banchetto con un ultra quartz un long jean al quarzo che mi sono anche pentito di non avere preso perché era veramente un bello orologio proprio esteticamente parlando no poi su quadrante c'è scritto ultra quartz e mi serve un ultra quartz dentro questa collezioncina qua però l'ho lasciato indietro capace che non lo ritroverò mai più questo sono i rischi del mestiere per prendere questo questo long jean qua che la sua referenza sarebbe del long jean 8239 come referenza e come si vede poi anche dal numero di serie un 14 milioni 757 mila e rotti praticamente è databile al 1967 io ho già un altro paio di anzi sì un altro paio di orologi del 67 però non ho questo calibro infatti si tratta del calibro 490 un esempio di come long jean alla fine degli anni 60 fosse in procinto di abbandonare gli investimenti sui calibri di manifattura il 30 l era giunto al termine del suo arco evolutivo e si cercava qualcosa di più economico da per sostituirlo qualcosa di più semplice e venne deciso di utilizzare un calibro esterno l'election 885 si tratta della versione a 21.600 alternanze dell'805 in quel periodo la casa continuava sia a sviluppare calibri meccanici di proprietà ma solamente automatici e stava puntando soprattutto sull'ultracron a 36.000 alternanze per contenere costi si affidò quindi al calibro election 885 che precedentemente veniva anche utilizzato da marvin con il nome calibro 700 praticamente era un election 885 che poi è diventato marvin 700 e infine preso da long jean per utilizzarlo come calibro 490 praticamente ciò che mi ha colpito di questo orologio è il quadrante con questa secondina a 2.6 così sovradimensionata con le cifre i numeri armi 60 e 30 così in evidenza e questi indici queste sfere particolari insomma un long jean differente dei soliti 30 l dei soliti quadranti che abbiamo visto negli anni 60 anche 50 abbastanza particolare infatti lì per lì sono rimasto stupito perché io nella mia ignoranza non lo avevo mai visto poi dopo una ricerca ho scoperto che c'è anche un quadrante nero che è molto più raro di questo qua bianco e che ha raggiunto anche dei prezzi elevati ora io ritengo che sia un bel vedere la cassa diciamo che più o meno quelle standard è un 34 mm con quelle ansette così che sporgono fuori un design classico degli anni 60 anche degli ultracron ma è proprio il quadrante ad essere particolari che è anche virato come vedete a quelle tonalità un po verdastra sul bordo esterno non tutto è solamente dove non c'è la secondina e questa è una curiosità che andrebbe approfondita però sta virando e mi piacciono gli orologi un pochino così vissuti come sapete fondello completamente liscio che riporta il numero 15 milioni a rotti che però è una numerazione che non ha nulla a che vedere con quella riportata sul calibro ricordatevelo hanno due numerazioni differenti quella che è sul calibro è quella che data l'orologio che gli dà giustizia all'anno che è il 1967 come ho detto ora qua vedete la corona che è marchiata Longines quindi è originale Longines è a cappello di prete e non era però la sua originale cioè non è quella adatta a questo tipo di orologio la sua era leggermente più cilindrica e non più spessa non a cappello di prete come utilizzavano già negli anni 60 ora io ho attivato il mio orologiaio di fiducia c'è il buon Yardella per una ricerca della corona ma anche se non la trovasse lo tengo anche con la corona così non è mica un problema però anche lui ha uno di questi modelli qua così è impassante tanto per dirlo ce l'ha anche lui e sta cercando la corona per me va bene grazie Yardella vedremo un po' se riesce a risolverlo per il resto cosa dire un orologio a 34 mm lo volete vedere sul polso ve lo faccio vedere sul polso d'altronde è un 34 mm non è che deve essere utilizzato come un orologio moderno contemporaneo è un vintage della mia collezione è un vintage e così deve essere io ve lo faccio vedere al polso è piccolino è piccolino ma è il suo il vintage va fatto così va fatto così deve essere così c'è poco da dire mi piace mi piace soprattutto perché poi si fa inserire nella mia collezione di altri non gink come vedete del 67 ne ho già un altro paio e qua c'è il suo posticino già preparato con la etichetta 1967 calibro 490 come vi dicevo questo qua è un election calibro 885 quindi non è di manifattura longina anche se è modificato perché se voi guardate le fotografie sia del marvin 700 che dell'election 885 noterete che ci sono delle differenze anche sostanziali anche nella regolazione del bilanciere e poi qualche anno dopo la stessa longina utilizzerà i calibri della record come ad esempio il fammi vedere dov'è il 69 42 questo qua è un calibro della record longin comprò la record proprio come azienda e iniziò a utilizzare i calibri della record vedete 1976 siamo nel momento nel quale non intendevano più sviluppare calibri meccanici a carica manuale vi ricordo che invece sugli automatici stavano continuando a farlo perché il 990 è uno degli ultimi no col doppio bariletto o 980 col doppio bariletto l'ultimo calibro automatico fatto da longin è il 990 980 poi passerà età ma nel frattempo poi ci furono anche gli ultronic al diapason quelli elettrici il dinatron oppure l'ultra quarzo come ho detto prima che per un bel periodo degli anni 70 equipaggiò gli orologi al quarzo di longin che però non erano in grado di realizzare i calibri al quarzo nessuna casa svizzera ormai erano tutte ampiamente dentro il mondo dell'orgelia meccanica da da secoli quindi uno shock tremendo infatti per ad esempio per gli orologi digitali si affidavano a texas instrument per i circuiti insomma era un momento di grossi cambiamenti per poi dopo tornare all'orogeria meccanica come tutte le case svizzere e con mamma età che la faceva da padrone riusciva a fornire i calibri ha risollevato un pochino diciamo tutto l'ambientino adesso me lo tolgo altre cose da dire quali posserebbero essere niente mi sembra mi sembra di aver detto tutto come si vuol dire no ve lo rifaccio vedere un attimino così eccolo qua simpaticamente e lo andiamo a posizionare nella sua nel suo cuscino eccolo qua lo mettiamo al posto così lo chiudiamo e va a dormire assieme ai suoi amichetti nell'attesa che arrivi la corona originale come gli spetta di diritto eccolo lì il mio bellissimo long jean vintage del 1967 col calibro 490 assieme ai suoi amici 1268 z 431 ossia ultra chrome 285 eccolo qua questo qua è l'ultronica il di abason questo qua invece è elettrico con bilanciere a transistor e batteria calibro 6942 derivato direttamente da il calibro record l'847 questo qua da 32 mm completamente in oro con cassa nazionale del 79 poi il calibro 32 come 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 piace chiamarlo a me che sarebbe il 30 l modificato l'evoluzione e il 490 del 1967 attendiamo nuovi arrivi in futuro e poi ci divertiamo continuiamo con la nostra piccola collezioncina di long jean ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto e io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video anzi non vi ho fatto vedere l'orologio del giorno che il mio bellissimo viller vetta con il cinturino nato in pelle realizzato dall'amico john colstrap il viller vetta dina wind mi veniva il nome dina wind eccolo qua simpatico lo faccio vedere lo faccio vedere dai lo faccio vedere in una maniera differente eccolo qua il dina wind simpaticamente al polso ecco qua un video un pochino amatoriale no come ci piace a noi perché la categoria amatora è sempre quella un pochino più ricercata e ci garba tanto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il mio nuovo orologino il mio nuovo vintage il mio nuovo longinetto e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love iscriviti al canale